oggi sta piovendo una giornata un po particolare fredda però entrando nel bosco si vedono subito dei buoni segnali non lo so se ci prenderà l'acqua o altro e qui ci sono veramente 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 notevole grazie è fatica è molta fatica e la giornata non è omicciata bene però adesso guardate voi in che posticino siamo entrati guardate un po guardate un po guardate voi mamma mia mamma mia il campo no che spettacolo che spettacolo due aspetta eh aspetta una cosa incredibile una cosa incredibile due tre tre quattro cinque guarda hai visto che spettacolo bellissimi sei aspetta però è guardate vedete niente di sopra niente no 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 non ci posso credere no no guardate là guardate là guardate qua qua questa incredibile 8 no spettaolare 8 funghi spettacolari, lampadina e avanti, ecco un altro bel fungo, avanti, eccoci qua, di nuovo in una carbonaia, vedete, quindi quella è la cerra della carbonaia, c'è un residuo, qualcuno ci ha fumato, una sigaretta ha mangiato, la fettura ha fumato, però qualcuno che ci ha fumato non ha visto né questo, né quello, né questo, né quello, ci sono quattro super funghi incredibili, 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 mamma mia, mamma mia, strato sveglio, guardate qua, guardate qua che faccia, mamma mia, mamma mia, che prigioniero, eccolo, due bellissimi, uno piccolino, eccolo qua, eccolo qua, e poi, e poi prendiamo la parte di sopra per non ci fare accogliere l'altro, che è un altro super fungo, wow, 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 quindi quattro super funghi, guardate voi, incastrato da questi legni, bellissimo, avanti, allora, adesso, attenzione, perché qui c'è un altro, mamma mia, vedi, eccolo, eccolo, bellissimo, poi c'è un altro, qui sotto, qui sotto c'è un altro, stando attento a non cadere, stando attento a non cadere uno grande e uno piccolino e andiamo a togliere questo che grazioso ecco avanti allora guardate che spettacolo c'è davanti allo siocco bellissimo wow la giornata piove un po guardate le nuvole salgono però come dire fino a quando ci sono questi funghi è difficile è proprio difficile venire via proprio difficile venire via direi impossibile meglio mamma mia guardate voi che spettacolo bellissimo bellissimo però qui adesso venite con me che c'è un altro fungone come questo adesso vedete dobbiamo fare attenzione perché il terreno è molto molto scivolo io sto facendo l'equilibrista per salvare il fungo ci teniamo a farvelo vedere che è bellissimo arrivo allora questo è qua questo per farvi capire il grado di difficoltà e anche la bellezza però del bosco e dei funghi wow 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 allora questo lo mettiamo qua in sicurezza e adesso un altro bel fungo perfetto ma aspettate perché qui ce n'è ancora 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 non ci si ferma ancora su 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 oh guardate voi la salita il grado di difficoltà non è uno scherzo e questi non sono ovviamente funghi per tutti però ne vale veramente la pena allora eccoci 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 c'è un altro bello 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 che è qui sotto dove nascono guarda guardate sotto un sasso guarda il petalo e poi e poi ancora ancora avanti appunto dicevo vai ho chiuso la registrazione e ho visto questo altro bel fungo altro bel fungo perfetto 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 avanti oggi oggi sono super fungo allora guardiamo in che passa fuori è proprio siamo sulla vetta un super fungo qui guardate voi un super fungo qui e poi e poi e poi e poi e poi fuori dalle piante tra tra l'erba un altro super fungo qui e poi guardate questo è semplicemente per tavola fuori e chissà adesso si incontrano anche le salamandre bellissime e poi questa è la condizione di oggi pioggia però vedete cosa abbiamo sotto a questo sasso cosa abbiamo sotto a questo sasso un bel fumo bello 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 avanti anche avanti anche sotto la pioggia e chi ci fa la pioggia che cosa ci fa la pioggia di questo faggio con queste dita entrano dentro al terreno favoloso ma mi sembra di vedere in fondo qualcos'altro guardate voi guardate bene perché non non riesco a capire se c'è qualcosa qua oppure no ma sarà un fungo ragazzi qui siamo a dei livelli incredibili qui siamo a dei livelli super fuoco super fuoco rosso bellissimo e poi c'è un altro e poi c'è un altro eccolo 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 ci vuole ci vuole bisogna rampicarsi un pochino però dove sta io ce lo vedo io ce lo vedo è un po' mangiato ho un buon gambo eccolo un altro rosso bello il gambo di sostanza avanti diverso dagli altri e si vede proprio la diversità e poi dopo ci ancora questa la faccio vedere di sopra appena si gira però qui c'è un altro bellissimo esemplare però bisogna l'attenzione non sapere eccolo eccolo qua un altro bellissimo esemplare questo è il più bello vediamo che sono più leggeri gli statini si chiamano e poi guardate voi quindi al margine della carbonaia questa è la carbonaia il tempo ci prendiamo il carbone adesso noi ci togliamo i fumi perfetto e anche questo perfetto beh che dire non male avanti sentite la pioggia